Grazie a tutti No c'è una cosa più interessante Allora noi giochiamo All'inizio siamo merda Poi diventiamo un po' meglio E ci impariamo tutte le figate Poi a un certo punto t'accorgi che In certi frangenti Scimmiare delle cose a muzzo è una figata Cioè è tutto danno veloce E questa cosa è importante A che cosa ti riferisci in particolare? Beh ai tuoi ultimi round Dove è stata una scimmia fest No no ma non era per criticare Anch'io lo faccio ogni tanto No no ma infatti la scimmia Cioè guarda leva come gioca Eppure è il numero uno E poi il paese Allora intanto Allora il match up com'è? Allora E la madonna come vincere free? Free no dai Eh quasi Beh la cotta è forte Sì ma non la fa lasciare A terra c'è una più 30 volte più forte Ah ok io non so un cazzo di ste cose Vabbè Ah comunque forse l'una al complesso Il complesso del maestro Quale? Del maestro che è dell'allievo che non può partire il maestro Adatto Al bago orientale Ah ok Ecco quello era un hit confirm vero? Meno male che non è partito Adesso si Adesso si Pizzettoni Qua c'è gente che ancora sta a rosicare il minimo Io no TS Mmm si mette male però 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 shit nel momento Un qua ci vuole un Mind game Paura Era questo un mind game paura? Fugo Oh mamma mia Qualc'è Chi è che ha fatto fugo? Eh Minizio E' da entrato Ah Ah ma guardate che Non possiamo dire fugo Dobbiamo Dopo dobbiamo tagliare Puoi editare TS Eh È arrivato anche Tony Al quale non può fottere di meno È arrivato Tony È TS No dai Eh Non gli TS Vabbè dopo Tony Comenta le patite di fronte Tony ha bistato tutto il giorno Con i migliori cofari d'Italia Gli ha scoppati come dei cretini Nel 2005 Nel 2008 Dio tecnica Esatto Cioè L'un vengono le Le idonaghe Solo con me Vabbè C'è un verdona Com'era quella verde? Libera Adamantona No com'era quella verde? Emeraldona Cazzo Beh ormai Mitsui Is on a roll Ti ha fatto vedere che la sa fare No non fai Darmi questi Questi assist Che poi Non mi tengo Ai 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 Che shift Qua deve shiftare Non sono io Ah Qua ci dovrebbe Pippo che No ma Pippo secondo me dovrebbe commentare gli sbagli Il cazzo è Pippo Il cocco Cocco marrone Bello Gli ha mangiato il cervello E tutta E l'un vede la luce dei morti Cos'è sta storia? Eh quello di Hit La cosa di Hit Devo Fran contro Sherlock Non contro Jack No Non contro Sherlock Commenta che lo scambiamo No Grazie